Una donna incontra il suo ex compagno per strada, allora gli fa Mario, visto che non hai perso tempo e ti sei dato subito da fare già una nuova casa, già una nuova convivenza, già una nuova compagna, addirittura un figlio ma scusa Anna Maria, ma che dovevo rimanere a soffrire la nostra relazione per tutta la vita? Dovevo chiudermi in casa così a soffrire, a continuare a pensare a te e alla nostra storia? Guarda che anch'io ho il diritto di essere felice! Ho capito Mario, ma guarda che ci siamo lasciati una settimana fa Insomma c'è l'appuntato dei carabinieri che ritorna in caserma in bicicletta al mattino Allora viene visto dal comandante che gli dice Appuntato, ma com'è che stamattina sei venuto in bicicletta? Ma di solito vieni sempre a piedi, ma che è sta novità? Come andà? Non può capire quello che mi è successo stamattina? Che ti è successo appuntato? E niente, io stavo a venire in caserma come tutti i giorni a piedi E niente, a un certo punto non mi si avvicina una bellissima ragazza su una bicicletta che aveva solo le mutande E beh, appuntato, e poi che è successo? E niente, lei come mi ha visto ha buttato la bicicletta per terra Si è tolta l'unico indumento, le mutande E mi ha detto prendi di me tutto quello che vuoi E beh, e te che hai fatto appuntato? E niente, io mi sono presa la bicicletta Che ci facevo che le mutande marescià? Insomma, ci stanno due amici che stanno chiacchierando tra di loro Allora uno dice all'altro Senti, amico, io ti devo chiedere una cosa molto importante Anzi, due Dimmi Senti, innanzitutto mi servivano mille euro E poi cederrei che sta cosa che ti ho chiesto Non la viene a sapere nessuno Ah, vabbè, amico mio Guarda, ti posso fare il secondo favore? Insomma, Adamo ed Eva stanno quasi per pranzare Allora Eva mette il piatto davanti a Adamo E Adamo gli dice Eva, mamma mia ma sei diventata una cosa impossibile Ma ancora mele Ancora mele Tutti i giorni mele Sempre mele Ma veramente io non ce la faccio più Va bene Adamo, dai Allora domani strudel E insomma, ci stanno due amici che stanno chiacchierando tra di loro Allora uno dice all'altro Oh, a Giova, io mi devo levare sto vizio Danna a donne Perché sennò con mia moglie si mette veramente male Perché? Che ti è successo? E che mi è successo? Ieri stavo a casa con mia moglie Abbiamo cenato Poi siamo andati in camera da letto Siamo stati insieme Alla fine ci ho avuto tipo un lapsus Non lo so che mi è passato per la testa Ho immaginato per un attimo che era una donna destrata E niente, l'ho pagata Gli ho dato i 50 euro E lei si è incavolata Ha fatto un macello E l'altro Amico mio Beato te Perché mi stai a dire così? Perché a me ieri mi è successa La stessa cosa con mia moglie Soltanto che E niente Alla fine gli ho dato i 100 euro Lo sai che ha fatto lei? Eh, che ha fatto? Eh, ma date resto dei 50 Tantà 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 Tantà